Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo Roller Team Kronos 284 TL, un camper di 7,40 metri, letti singoli, molto confortevole. Andiamo, cliccate sulla vostra destra in alto e si aprirà la scheda del nostro sito dove ci sono tutte le caratteristiche di questo camper. Optional, dimensioni, prezzo di listino per prepararci ai nostri concorrenti, ma soprattutto il prezzo chiave in mano che vi servirà per poter valutarne l'acquisto. Poi iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate la campanellina che sarete sempre aggiornati su tutti i nostri video. Qua il garage, un bello sportello sia grande sia a destra che a sinistra, un grandissimo contenitore di stivaggio. Come vedete molto ampio, qui sotto le dimensioni. Questi sono i ganci per poterci mettere motociclette o biciclette con più facilità. E ora andiamo al suo interno. Finestra, porta immondizie, porta zanzariera, un bel accesso, la maniglia per salire. Questo è un camper, letti singoli, 740, con una dinette classica. Questo è un camper comodo per le quattro persone. Pensate anche al viaggio, 1, 2, 3, 4, oppure alle conversazioni, 1, 2, 3, 4, 5, anche fino a 7 persone. Il tavolo che si muove e trova la giusta collocazione in relazione a come lo andrete ad usare. Una finestra apribile, molto grande. Poi i due pensili sotto il letto basculante. Finestra laterale sinistra. La cucina di un camper con fronte marcia in questo modo è molto grande. Un bel piano d'appoggio, un bel lavello, tre fuochi, un pensile sovrastante. Qui un bel contenitore da poterci mettere le cosette da cucina. Poi cassettiera, altra cassettiera e un piccolo contenitore in fondo dove c'è il generale. Qua sotto il lavello un altro grande contenitore. Poi sopra il frigorifero un altro contenitore, il frigorifero con il congelatore e il cestello portabottiglie. La parte posteriore. La parte posteriore ha la porta che divide la zona giorno con la zona notte e qua il classico letti singoli. Letti singoli che può essere usato con i due singoli per così. Oppure l'aggiunta della parte del materasso centrale che può servire sia a dormire uno, due, tre per lungo oppure per traverso avere un enorme letto matrimoniale. Qua l'apertura superiore e inferiore dell'armadio lato sinistro. Di qua apertura superiore e inferiore dell'armadio lato sinistro. Poi le due cassettiere, una e una due, oltre ad avere lo scalino con un grande contenitore. Questo camper ha cinque posti, quindi può essere o questo bel letto, guardate com'è bello grande, qui il suo pensile, luce con USB, finestra destra e sinistra e un bello blu. E la possibilità quindi di dormirci in tre. Questo è un camper molto da famiglia, perché essendo cinque persone è un camper abitabile per cinque, è veramente funzionale. Lo spazio doccia. Lo spazio doccia è molto ampio, quindi anche per bambini sono tranquillamente, allora intanto gli adulti possono lavarsi così, ma anche lavare un bambino da qui, lavarlo qui sicuramente non schizzate la zona giorno. Qui la stecca è che ci si può agganciare, gli abiti bagnati per sia asciugarli che farli scaricare nel piatto doccia. Il funghetto, ma soprattutto l'oblò. Poi il bagno, la porta che gira e si chiude nella zona anteriore, come vedete ci sto bene la porta aperta, ma anche ci sto bene in caso di porta chiusa. C'ha la finestra, ha il pensile, ha un altro contenitore sotto il lavello e i vari contenitori qua. Come vedete il lavello bello profondo che si lava bene. Qua il basculante saliscendi con le protezioni sia posteriori che anteriori e questo il letto basculante. La salita è dalla scaletta nella parte posteriore. Qui la larghezza è molto ampia anche se strettisce dalla parte dei piedi. C'è la possibilità di avere ognuno il proprio letto. Uno, due posteriori singoli, tre questo letto basculante e quattro il tavolo si abbassa e c'è già subito il kit per fare una piazza e mezzo tranquillamente. La possibilità, quindi l'abitabilità, sono cinque persone, quindi due posteriori, due sul letto basculante e la quinta che si abbassa il tavolo che c'è già il kit e fa una bella piazza e mezzo. Quindi se vi è piaciuto o avete compreso l'abitabilità di questo camper chiamateci ugualmente perché possiamo offrirvi la nostra professionalità perché siamo camperisti quindi per potervi far scegliere il camper più adatto alle vostre vacanze. Come sempre agli ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao!